Convinta femminista, Nazik al-Abid è una giornalista siriana che scrive sotto falso nome una paladina del voto femminile e un capitano dell'esercito durante la guerra contro i colonizzatori francesi. Fonda associazioni, movimenti politici e scuole per donne povere. Infaticabile, generosa, coraggiosa e indomita fino a conquistarsi il titolo di Giovanna d'Arco di Siria. Io sono Carmen La Terza e questo è Donne Intrepide, un podcast di Libroza che racconta le storie di donne che hanno superato gli stereotipi del loro tempo, hanno vinto i pregiudizi di genere, hanno sfidato le aspettative della famiglia e della società. Donne più e meno famose, ma sempre donne vere, donne con pregi e difetti, donne che incarnano le contraddizioni dell'epoca in cui vivono, donne a volte difficili, spesso solitarie e controcorrente. E proprio per questo, donne intrepide. Nazik Khatim al-Abid Bayoum nasce nel 1887 a Damasco, nell'allora impero ottomano. La sua famiglia appartiene alla classe dirigente del paese. Il padre è stato governatore delle città di Karak e Mosul e lo zio è il consigliere del sultano, Abdul Hamid II. Nazik è una bambina intelligente e la sua famiglia le impartisce un'educazione scolastica internazionale, assecondando la sua passione per le lingue. L'instabilità della Siria, però, finisce per interferire presto con la vita della giovane Nazik. Dopo la destituzione del sultano Abdul Hamid II, la sua famiglia viene mandata in esilio. Nazik ha solo 12 anni ed è costretta ad abbandonare Damasco per la Turchia. Si trasferisce con la famiglia a Smirne, dove frequenta la scuola dei missionari americani Paradise School. Durante gli anni scolastici mostra una spiccata preferenza per la fotografia e la musica. Impara a suonare il pianoforte e continua a coltivare il suo interesse per le lingue. Diventa così una vera e propria poliglotta. Oltre all'arabo, che è la sua lingua madre, infatti, è in grado di parlare in turco, francese, tedesco e inglese. È in questo periodo, tra l'altro, che si interessa di medicina e acquisisce una serie di conoscenze infermieristiche che saranno molto importanti nella sua vita d'adulta. Nazik è aperta e curiosa e, seguendo i suoi interessi, si imbatte nella rivista La Sposa, fondata dalla scrittrice damascena Mary Ajami. Si tratta della prima pubblicazione siriana incentrata sulle tematiche femministe e per lei è una vera e propria folgorazione. Nazik aderisce anima e corpo alle rivendicazioni femminili e condivide pienamente le idee esposte da Mary nel primo editoriale in cui dedica la rivista a chi crede che nello spirito della donna c'è la forza di uccidere i germi della corruzione, che nella sua mano è l'arma per squarciare le tenebre dell'opposizione e nella sua bocca il conforto per alleggerire la miseria umana. Nonostante sia pericoloso, Nazik comincia a scrivere per La Sposa. È consapevole però di quanto siano rivoluzionarie le idee femministe per la società siriana dell'epoca e firma gli articoli usando uno pseudonimo. La redazione è composta solo da donne, ma la rivista ha numerosi collaboratori e sostenitori sparsi in diversi paesi. Nazik viene così a contatto con un ambiente molto stimolante dal punto di vista intellettuale e affina le sue doti di giornalista, diventando a tutti gli effetti una attivista. Nel 1916 il principe Faizal si mette alla testa della rivolta siriana contro l'impero ottomano e dopo due anni riesce a conquistare il potere. La Siria torna ad avere un re siriano e Nazik sente il richiamo della sua terra mai dimenticata. È una sostenitrice di Faizal e crede nella sua politica riformatrice e innovatrice. Ritorna così a Damasco con la ferma intenzione di non rinunciare alle proprie idee. Non ha paura di affermare Il miglioramento della condizione femminile è il suo obiettivo e una volta in patria si attiva subito per ottenere l'appoggio del governo nascente. Fonda un'associazione femminile e chiede un colloquio con il principe Faizal. Ha un progetto preciso in mente, vuole costruire una scuola e occuparsi dell'educazione scolastica delle donne le cui condizioni sono state rese ancora più precarie dalle varie rivolte che hanno dilaniato il paese. Nazik è una delle rappresentanti più attive del movimento femminista appena nato in Siria e riesce a ottenere l'appoggio di Faizal che le concede il terreno dove costruire la sua scuola e persino un aiuto economico. Lei è entusiasta ed elettrizzata per la possibilità offertale di contribuire a cambiare la situazione delle donne siriane e si impegna con passione. È una giovane donna infaticabile, piena di risorse e di progetti e oltre all'associazione e alla scuola fonda anche una rivista che tratta tematiche femministe. Il processo di cambiamento in atto in Siria la coinvolge vuole dimostrare anche lei alla comunità internazionale che il suo paese si è avviato verso un importante percorso di cambiamento. Nel gennaio del 1919 il principe Faizal è a Parigi per ottenere l'indipendenza della Siria che rischia di passare alla dominazione francese. Per favorire questo passaggio incoraggia la nascita del Parlamento e la stesura di una Costituzione che entra in vigore nel 1920. Il resto del mondo non sta a guardare senza intervenire. Nell'estate del 1919 infatti in Siria arriva una delegazione internazionale il cui compito è sondare l'opinione pubblica nei confronti di un eventuale governo coloniale con a capo i francesi come previsto dall'accordo Six-Picot datato 1916. Nazique è invitata ad incontrare i membri del comitato voluto dal presidente statunitense Woodrow Wilson. Non c'è occasione migliore per lei per dimostrare la modernità del suo paese alla cui indipendenza da governi stranieri tiene particolarmente. Compie così un gesto importante e si presenta ai diplomatici senza il velo. La conferenza tra l'altro si svolge in un palazzo importante per lei dal punto di vista sentimentale. Si tratta dell'edificio El Abed in Piazza dei Martiri simbolo della sua famiglia. In questa occasione conosce anche il rappresentante libanese proveniente da Beirut Muhammad Jamil Beyem Alitani noto come l'avvocato delle donne. Si tratta di un incontro importante che segnerà la sua vita personale. Nazique è davvero galvanizzata dalle iniziative del principe Faizal. Le sembra che il paese si stia muovendo nella direzione giusta sensazione che la incoraggia a essere ancora più attiva. Il suo contributo all'indipendenza della Siria infatti non si limita al gesto simbolico del velo. Nazique va oltre e davanti al congresso siriano rivendica il diritto di voto per le donne. Da brava attivista non è arrivata impreparata all'importante appuntamento. Ha studiato i movimenti femministi internazionali e ha scelto di ispirarsi al modello delle suffragette americane e inglesi. Porta così avanti le sue argomentazioni ed è così convincente da indurre molti deputati a pronunciarsi in favore del suffragio femminile. È una grande vittoria per Nazique. A un passo dal traguardo però la gognata conquista del diritto di voto svanisce. Il governo è costretto a fare marcia indietro a causa dell'opposizione popolare. Nazique si ritrova a dover fare i conti con un governo ancora debole che non vuole prendersi da responsabilità di un atto impopolare proprio mentre le truppe francesi si mobilitano al confine con il Libano. Per lei si tratta di una vera e propria resa anche se momentanea perché la minaccia alla sovranità dello Stato è considerata una questione di maggior rilievo rispetto al diritto al voto delle donne. La situazione precipita nel giro di poche settimane e Nazique è in prima linea con la sua associazione Società della Stella Rossa antesignana della mezzaluna rossa araba e vicina alla Croce Rossa Internazionale con la quale si occupa di soccorrere e prestare aiuto ai feriti di guerra. Le forze francesi avanzano fino alle porte di Damasco in poco tempo. La situazione è sempre più difficile e il principe Faizal le concede il grado di capitano dell'esercito. Nazique indossa l'uniforme militare senza velo e sfila per le strade di Damasco insieme ai militari diretti al campo di battaglia di Maisalun. Ha un compito preciso che consiste nell'esortare i suoi concittadini a partecipare alla difesa della patria. Lei stessa dichiara senza timore «Vado a una santa lotta». Nazique ha un forte spirito patriottico non ha paura di nulla e per questo la soprannominano la Giovanna d'Arco di Siria. È il luglio del 1920 e lei si aggira sul campo di battaglia guidando le sue infermiere e prestando soccorso ai feriti. Purtroppo lo scontro di Maisalun è una disfatta e decreta la fine del regno di Faizal. che fugge in esilio a Roma. Il governo guidato dai francesi insediatosi a Damasco ritira subito l'appoggio alle varie associazioni femminili concesso dal governo precedente. Vengono chiuse anche la scuola e l'associazione di Nazique considerate troppo nazionaliste. Per lei la Siria è diventata di nuovo pericolosa. Deve allontanarsi come ha fatto da adolescente e ancora una volta non parte per libera scelta. Esiliata per due anni in Turchia a Istanbul nel 1922 torna per un periodo a Damasco ma è costretta a partire di nuovo e a trovare rifugio in Giordania. Nonostante le difficoltà e le delusioni non abbandona l'attivismo politico. Grazie alla sua conoscenza delle lingue viaggia per far conoscere la situazione del suo paese e delle donne in particolare. Continua anche a tenere i contatti con diversi esponenti del movimento femminista siriano. Non vuole arrendersi alla dominazione francese e quando nel 1925 scoppia la rivolta armata nel suo paese è subito pronta a dare aiuto. Non ha perso neppure un bricciolo del suo coraggio e della sua intraprendenza e si traveste persino da uomo pur di dare una mano ai rivoluzionari. Ha un'ottima conoscenza della regione di Guta intorno a Damasco e aiuta i combattenti fornendo loro precise indicazioni geografiche. Nel 1927 fonda l'associazione Risveglio della donna siriana insieme all'amica attivista Adil Al-Jazairi. Impartiscono lezioni di inglese e di cucito per le ragazze povere, visitano gli ospedali e organizzano incontri mensili per parlare delle tematiche che stanno loro a cuore. Nello stesso periodo entra a far parte come fondatrice di un movimento dichiaratamente politico l'Unione delle donne in Siria e Libano. Si tratta di un'associazione che riunisce una serie di comitati femminili. Nel 1928 Nazik e le sue compagne riescono a organizzare un primo congresso a Beirut. Nella capitale libanese si incontrano più di mille donne che chiedono scuole femminili, sussidi per i malati e controlli sanitari nei panifici la cui scarsa igiene ha trasformato il pane in un veicolo di malattie. Durante il congresso a Beirut Nazik incontra di nuovo l'avvocato delle donne Muhammad Jamil Beyem Alitani e nel 1929 i due si sposano. Nazik si trasferisce quindi in pianta stabile in Libano ma il trasferimento non segna la fine del suo impegno come attivista. Al contrario il marito ammira molto la sua capacità di combattere anima e corpo per le cause in cui crede e decide di assecondarla. le offre un sostegno non solo morale ma anche pratico aiutandola dal punto di vista economico. Grazie alla profonda condivisione di vedute con il marito Nazik può portare avanti le sue battaglie. Continua dunque a essere una delle rappresentanti più importanti del movimento femminista in Siria e in Libano e si batte per una serie di cambiamenti in favore delle donne. Per proteggere le bambine chiede l'innalzamento dell'età del matrimonio da 10 a 17 anni propone misure per scoraggiare la poligamia lotta per il diritto al divorzio e la concessione alle figlie femmine della stessa eredità dei figli maschi. Il lavoro per le donne diventa una delle battaglie principali di Nazik è convinta che per ottenere diritti politici le donne debbano prima di tutto rivendicare i loro diritti economici. Si batte quindi perché lo Stato conceda sussidi all'industria femminile e perché vengano promulgate delle leggi per ridurre l'orario di lavoro e aumentare i salari femminili. Con l'associazione Risveglio della Donna Siriana è impegnata sul fronte della protezione dell'artigianato e cerca di ottenere una legge a tutela dei prodotti locali dalla concorrenza internazionale. Inoltre nel 1933 fonda l'associazione per la lotta alla prostituzione sfidando così di nuovo i francesi che invece incoraggiano la prostituzione con leggi ad hoc. Grazie alle sue continue pressioni Nazik ottiene qualche piccola vittoria che la ripaga del sacrificio di una vita intera dedicata alla lotta. Nel 1936 infatti il governo approva una legge che garantisce una serie di diritti per le donne tra cui un giorno di riposo settimanale e il congedo di maternità. Nazik è vicina a tutti quelli che soffrono e si impegna per portare aiuto laddove ce n'è più bisogno. Nel 1948 fonda un'associazione per i profughi palestinesi e nel 1957 si occupa della condizione delle madri libanesi con un'altra associazione. Ha 70 anni ma non vuole smettere di combattere per i diritti delle donne fino all'ultimo lotta per quello in cui crede. Nazik al-Abid muore nella sua Damasco nel 1959 all'età di 72 anni dieci anni dopo il riconoscimento del suffragio femminile in Siria. Se ti è piaciuta questa storia ne puoi trovare tante altre nei libri della collana Donne Intrepide editi da Libroza e disponibili in tutte le librerie. Donne Intrepide è un podcast scritto e condotto da me Carmen La Terza e prodotto da Libroza. Io ti ringrazio per l'ascolto e ti aspetto alla prossima storia. Alla prossima Donna Intrepida